A Candela l'iniziativa che ha portato tanti artisti di strada ed esibirsi per le strade, per l'appunto siamo alla prima giornata di questa due giorni, come sta andando Sindaco? Bene, è una bella e gioiosa iniziativa, una due giorni che vedrà Candela con tanti artisti, oltre 40 artisti nazionali e internazionali, tutto questo grazie al Ministero della Cultura che ci ha finanziato questa iniziativa che non prevede solo il Festival Street Street degli artisti di strada, ma anche la valorizzazione di alcuni attrattori culturali. Avevamo bisogno di destagionalizzare, diciamo così, oltre al Natale e oltre all'infiorata Candela, avevamo bisogno di questa iniziativa di fine estate e quindi ci siamo inventati Street Street, il Festival degli artisti di strada. Oggi la prima giornata, domani si continua, quindi l'invito è per tutti. Assolutamente sì, fino a domani sera abbiamo, come dicevo, tanti artisti, c'è anche tanto street food ed è la dimostrazione che anche nei nostri piccoli borghi, nei Monti Dauni, è possibile fare turismo.